ancora non si vince popolo di youtube mi so mustang padovano oggi niente giacca perché fa caldo è un caldo a troce e comunque sia appunto registro il video adesso come sempre so di fretta ieri appunto non sono riuscito ero fuori mi trovo in quel di piazzola sul brenta per chi conosce la zona detto questo ci troviamo qua a commentare questo padova che non dà più emozioni ormai però a parte commentare il padova poi comunque commenteremo anche un po al mantova che va bene deve ancora giocare il turno ma si sa che è già promosso in serie b con grande merito lo dico già adesso ma poi ne parliamo prima analizziamo questa ennesima brutta partita allora un padova nel primo tempo che comunque è stato discreto non di più discreto ha meritato il vantaggio lo troviamo subito con bortolussi decisivo in positivo ma poi in negativo e dopo vi spiego perché però dopo ragazzi il secondo tempo approcciato malissimo loro vanno più vicini al gol dopo in qualche modo riveniamo fuori noi però disattenzione dietro clamorosa dopo già che avevamo fatto troppi errori in impostazione gol uno a uno e dopo chi rischia di andare a vincere sono loro molto più di noi ecco ultima cosa bortolussi ha fatto come lukaku ha fatto il portiere liguori quello quel tiro là secondo me era gol sicuro quello di liguori ha tirato addosso a bortolussi che si trovava là e che è uno che c'è bortolussi cazzo non segni mai sei anche dannoso porca miseria e vabbè comunque sia una squadra che lo vedete non ha mordente e come ho detto anche dopo la partita di coppa italia io temo che questa squadra sia proprio non ci sia più non è neanche questione di motivazioni no che il campionato è già chiuso da tempo poi per me è finita dopo lo 05 definitivamente in casa contro il mantova secondo me appunto proprio per questo pensavo anzi pensavo che fosse questo però poi vedo la coppa italia e vedo lo stesso atteggiamento remissivo questa paura nei giocatori non c'è questa voglia di andare a aggredire la palla no di non lo vedi non lo vedi e anche ieri insomma con lumezzane una squadraccia ho visto e adesso attenzione perché il vicenza se vince la partita in meno che ha va meno sei cioè almeno vediamo perché ripeto basta veramente poco per blindare il secondo posto ma vediamo di non metterlo a rischio anche perché l'ultima sei con la triestina che è più forte di te ecco detto questo non voglio soffermarmi cioè guarda ero anche in dubbio se fare questo video in realtà però poi mi sono detto mustang ma perché ve lo fai perché comunque è giusto rendere omaggio al vincitore è giusto rendere omaggio al mantova e appunto oggi facciamo questo perché il mantova ragazzi se vi ricordate era andato in serie d l'anno scorso è stato ripescato e poi vi direte ma come cazzo ha fatto andare in serie b a vincere il gruppo e stravincerlo adesso ragazzi vi spiego che è quello che dovremmo fare anche noi dovremmo fare anche noi una roba del genere almeno dal punto di vista del mercato ragazzi il mantova ha fatto un mercato della madonna e vi dirò anche nonostante il mercato io pensavo fosse una squadra diciamo da piazzamento playoff inizialmente poi però sono passate le giornate e vedevo una squadra che carburava e soprattutto iniziava a giocare bene ma bene che in serie c non si vede tutti i giorni giocare così bene e qui poi arriva il merito dell'allenatore possanzini che è vero che gli hanno preso dei giocatori forti ma è anche vero che lui li ha valorizzati infatti rendere ancora di più secondo me di quello che valgono poi c'è questa questo gioco diciamo che è come dire spregiudicato ma è spregiudicato e corri dei rischi ma sono rischi calcolati perché poi vabbè qualche volta ti può anche andare male ripeto siamo in serie c non è che abbiamo un calcio dell'hit però c'è questa costruzione dal basso che magari la mantova rischia sempre però raramente la sbaglia sono rischi calcolati perché poi comunque c'è sempre il giocatore che va a coprire poi qualche volta prende l'infilata perché sendo una squadra spregiudicata offensiva può prendere l'infilata certo però anche sempre con moderazione è un rischio calcolato perché vedete poi c'è gente che a volte mi viene a scrivere anche in privato su instagram o nei commenti no che mi viene a dire è il padova gioca male e ok siamo d'accordo e poi mi dicono con caneo facevamo un grande calcio sì ma quello era sì spregiudicato ma il rischio non era calcolato ogni azione era gol se vi ricordate perché allora mi vengono a dire del bel gioco che io criticavo caneo l'anno scorso come ti permetti adesso invece non critichi torrente ma sì ma ripeto avete visto che cosa ha fatto caneo alla turris ma l'avete visto cosa ha combinato ha fatto come il padova ha iniziato forte poi ha iniziato a girargli male la ruota tutti i tiri che gli hanno fatto sono diventati gol e ciaone esonerato cioè capito ma giusto così come con noi ragazzi noi abbiamo fatto una buona partenza con lui dopo con squadra indebolita anche in quel caso e dopo ragazzi disastro totale cioè gol presi a palate e bel gioco che non ti serve a un cazzo cioè capite deve essere in serie c soprattutto devi anche comunque badare alla compattezza di squadra capisci non basta il bel gioco e questa cosa l'ha fatta il mantova c'è anche stata una coesione cosa che non c'era non c'è non c'è nelle squadre di caneo parliamoci chiaro e appunto quindi il mantova secondo me la vince grazie a un gran mercato e all'allenatore ragazzi non a caso è la vice di de zerbi che è un maestro secondo me e eccolo qua li ha portati in serie b veramente un applauso a tutto il mantova alla società nuova all'allenatore giocatori appunto mercato con l'augurio che in estate torrente o no noi facciamo un mercato dignitoso dobbiamo fare un mercato bisogna investire ragazzi bisogna investire e comprare i giocatori perché ci puoi mettere anche un allenatore fortissimo ma questi giocatori qua è difficile o speri che stecchino le altre però ragazzi poi l'anno prossimo ti vengono giù la ferralpi salò e il lecco probabilmente cioè quindi non è che ti vengono giù squadrette quindi anche l'anno prossimo io la vedo dura se non fai un gran mercato ecco comunque appunto termino complimenti al mantova noi io aspetto i playoff come vi ho già detto iscrivetevi al canale youtube se volete se volete mettete mi piace e sempre forza bianco scudati ciao